Formazione professionale di qualità, lo stretto rapporto con il mondo del lavoro e lo sguardo che spazia ben oltre i confini della provincia di Sondrio. Il PFP Valtellina è infatti diventato punto di riferimento per i progetti Rasmus che richiamano nella sede di Sondalo gli studenti europei. Da l'Ungheria provengono i docenti e le ragazze accolte per tre settimane dal polo di formazione professionale. È da anni che il PFP Valtellina accoglie all'interno della propria struttura di Sondalo l'esperienza degli Erasmus, questo scambio interculturale che avviene all'interno grazie dei progetti dell'Unione Europea. È un momento importante per la nostra scuola e il nostro istituto, soprattutto per la sede di Sondalo, che vede un permeare di esperienze, permeare di storie, un confronto, uno scambio culturale che va a arricchire ulteriormente quella che è l'offerta professionale, l'offerta formativa che viene erogata da parte della nostra azienda ai ragazzi che frequentano le nostre scuole. Un progetto ricco che vuole continuare, che si ripresenta. In questo periodo abbiamo accolto le setiste e le parrucchiere. A breve arriveranno quelli del settore agricolo, che anche questo è all'interno della nostra scuola. Siamo molto felici di essere qui e di vivere questa esperienza. Le nostre studentesse hanno imparato molto le nuove tecniche in vari ambiti, bellezza, benessere, hairdresser. Siamo molto felici di lavorare con gli insegnanti italiani, tutti sono stati molto carini con noi. Sono state tre settimane molto importanti nella vita delle nostre ragazze, si sono confrontate con la cultura italiana e inoltre siamo circondate da un paesaggio bellissimo. Voglio ringraziare di cuore il PFP Valtellina, i suoi responsabili e tutto lo staff. Grazie. Grazie mille.